Come ormai tradizione, sabato 20 luglio a Son Gavazzo, il centro del paese si animerà con bancarelle, mostre d'antiguariato e hobby, mercatini enogastronomici, spettacoli fissi ed itineranti. Ma le attenzioni saranno rivolte al centro sportivo comunale, anche per l'ottima cucina allestita, ma principalmente per il palio degli asini. Le persone che magari hanno partecipato nel primo pomeriggio di sabato alla visita delle bancarelle, più di 80, sparse qui e là per le vie e viuzze del paese, che quindi permettono al visitatore esterno di conoscere meglio Son Gavazzo e permettono a quelli che espongono il materiale vario, di tradizione o di qualsiasi altra bancarella come si trova in alcuni mercati, il loro prodotto. Quindi la festa in realtà comincia molto prima delle 21 rispetto al palio. Alle 20.45 i fantini sfileranno per il paese, accompagnati dalla banda musicale di Ponte Nossa, dai bambini del centro ricreativo estivo e dall'associazione storica di Albino. Il vero e proprio palio degli asini si disputerà alle 21.30 e vedrà in competizione le varie contrade, seguito poi dal palio dell'Unione dei Comuni della Presolana. Il 2013 sarà caratterizzato da un palio tutto femminile. Non mancheranno naturalmente l'intrattenimento musicale e i fuochi d'artificio. A tutti i volontari, sia essi amministratori che volontari gratuiti dal primo all'ultimo, va ovviamente il plauso di tutta l'amministrazione, perché è ovvio ed è ormai saputo e risaputo che senza il lavoro gratuito e volontario di tanti ragazzi, tante persone, non si potrebbero concretizzare mai degli eventi così belli. I più maligni sindaco parlano di qualche competizione con il palio di San Lorenzo di Rovetta. Quanto c'è di vero? Direi assolutamente zero, sia perché siamo in questa Unione Comuni e andiamo d'accordo con i vicini di casa, sia perché abbiamo avuto per un anno intero lo stesso parroco, sia perché poi i pali si svolgono in giornate diverse e sia perché una tradizione vale l'altra, quindi assolutamente competizioni neanche una. Più bello quello di Son Gavazzo? Ma questo è ovvio.